Il 2015 è l'anno della luce. L'osservatorio astronomico di Teramo, in collaborazione con il comune di Teramo, ha deciso di fare una manifestazione in piazza. Di che si tratta? Nei fatti sarà una danza fatta dai bambini della scuola Lucidi, qui di Teramo, ma è un momento particolarmente importante perché noi siamo abituati ogni giorno a usare la tecnologia, i telefonini, i GPS, però realmente non sappiamo che cos'è. Ecco, noi abbiamo l'obiettivo di fare in modo che la cultura scientifica diventi, come dire, parte del patrimonio, non solo il consumo della cultura, che è quella che si manifesta nell'utilizzo della tecnologia, ma nella comprensione della tecnologia. Io dico sempre questo, che Teramo ha delle eccellenze che spesso dimentichiamo, forse anche noi amministratori, come l'osservatorio di Collorania, l'istituto Braga, l'università. Quando queste strutture, quando queste istituzioni toccano la città, quello che toccano si trasforma in oro, io lo dico sempre. Poi avere la possibilità di avere degli scienziati che aprono i loro laboratori e rendono poi fruibile, perché il bello di queste persone, che io ho conosciuto personalmente come il direttore e come i suoi collaboratori, che pur parlando di cose altamente scientifiche, trasformano appunto questa scienza, queste ricerche che fanno, in cultura fruibilissima, che riguarda anche e soprattutto il mondo dei bambini.